Siamo giunti all'attrice straordinaria della domenica, sono in 14 il forfè di Randall Club e viene a mancare anche il rapporto di scuderia, un doppio chilometro che vede il numero 14 SER FKS, il netto favorito, ora chiacchiericcia 1,95 la sua quota, mezzo meccanico al completamento della piegata, prende velocità la macchina, va via, buono il lancio, si lotta per il comando con Rai Tiar dal centro nei confronti di Scansano M con al largo SIX di Costa, punta in avanti Forino con il suo Costa, galoppa Gubbellini con Rai Tiar, galoppa Scansano M, un po' di bagarre, lancio in 14,9, c'è stato un po' di bagarre in partenza e così ha il comando il buon Forino ad amministrare i Birilli. Si va al completamento dei 400 che se ne vanno in 30 scarsi. In seconda posizione Special One che è partito molto bene con il giovane di Francia a precedere via via tutti gli altri. Nelle prime posizioni anche Sindal, 45,5 i 600 e si va al completamento e la piegata. Si fa notare per linee esterne e risale il sogno dei ronchi. Completamento e la piegata anche del mezzo miglio in 1,2 e sogno da un severo attacco al leader che allunga. Cavalì al completamento del primo chilometro. Il primo chilometro nell'ordine del... A me sul mio cronometro è un 16 scarsi. St John Very Nice prende la scia di sogno dei ronchi. Più pariglie. Si completa la piegata. Non viene ancora via S.R.F.K.S. è chiuso. Cavalli di fronte. Una frazione in 16,3. Nulla muta per il momento e si va ai 600 finali. La frazione di fronte in 14,9. Non riesce a liberarsi ancora Minopoli con il suo allievo chiuso, murato vivo. Cavalli sulla curva finale. Si va al miglio gettonati in 2,1,8. Insiste al largo sogno dei ronchi. Ora si libera Minopoli e dovrebbe puntare in avanti. Ma sta molto dietro. Retta d'arrivo. Passa. Sogno. St John Very Nice nella sua scia. E St John Very Nice. Passa. A redini basse. Viene via Special. St John Very Nice. Sogno dei ronchi. E per il terzo finalmente Minopoli. Con il suo surf app KS. Ma c'è foto per la terza moneta. attenzione. 1,15. 2,30. Andiamo a rivederle queste immagini. Bella vittoria del giovane Luongo. Abbiamo detto che questo era il cavallo molto da seguire, soprattutto per i piazzati. Secondo il 15 e terzo il 14. Poi c'è il 9 di Special One e il 13 di Silver Rock. Attenzione. Per il terzo, quarto e quinto posto. Conservate i ticket. Poiché c'è foto stretta. Io ho dato il mio arrivo. Ma l'arrivo lo fa la giuria. E poi zio Salvio. Si è fatto anziano. Può sempre sbagliare. Per il momento è tutto. Linea allo studio.